La Germania divenne europeista perché era chiaro che quello era il solo modo che le avrebbe consentito di riabilitarsi dopo l'avventura nazista, di rientrare nel circolo delle nazioni, di godere ancora di credibilità e di stima, virtù di cui aveva molto bisogno negli anni dell'immediato dopoguerra quando era ancora viva il ricordo del nazismo e dei suoi disastri. L'Italia aveva ragioni molto analoghe a quelle della Francia. L'Italia divenne europeista perché il suo nazionalismo aveva fallito, il suo risorgimento nazionalista nella versione fascista, nel modo in cui era stato utilizzato dal fascismo, il fascismo aveva fallito. E allora era alla ricerca di un'ambizione. Che cosa avrebbe dovuto fare l'Italia in Europa? Ogni paese ha bisogno di sentirsi utile, di sentire di avere un obiettivo. E quell'obiettivo in quel momento non poteva essere per l'Italia come per gli altri paesi del resto che l'Europa. L'Inghilterra no. L'Inghilterra aveva vinto la guerra. Era molto più difficile per l'Inghilterra sentirsi, accomunarsi a paesi che la guerra non l'avevano vinta. Credeva di potere in qualche modo perpetuare il suo potere. Sì, sì, è certo, avrebbe perduto l'impero. L'impero si sarebbe, come le foglie del carciofo, si sarebbe ridotto man mano nel corso del decennio successivo. L'India fu resa indipendente nel 1947, l'indipendenza del Ghana è del 1964, se non sbaglio. In altre parole, negli anni successivi gradualmente tutto l'impero britannico si sarebbe sfogliato, per così dire. Però l'Inghilterra credeva ancora di poter mantenere le vex colonie all'interno unite, più o meno unite all'interno di un Commonwealth. E Churchill aveva, per così dire, enunciato la filosofia politica della Gran Bretagna, sostenendo che la Gran Bretagna doveva essere il punto di contatto fra tre cerchi. E questi tre cerchi sarebbero stati gli Stati Uniti, di cui la Gran Bretagna era il partner privilegiato, o così riteneva di essere, il Commonwealth e naturalmente l'Europa, in cui voleva avere un piede, ma un piede soltanto. E non voleva entrare nel mercato comune, creò la propria organizzazione economica con i paesi neutrali e scandinavi. E finì per entrare in Europa soltanto quando la sua progetto di unione economica europea fra i paesi neutrali fallì. Il mercato comune aveva un grande successo, l'EFTA, così si chiamava l'organizzazione fondata dalla Gran Bretagna, non l'aveva affatto. E allora la Gran Bretagna finì per entrare negli anni settanta, quella che allora si chiamava la comunità europea, perché? Perché pensò molto realisticamente che il solo modo per orientarla verso i suoi scopi, verso i suoi obiettivi, era quello di stare dentro. Quindi fu un illuminato e intelligente sabotatore, da sempre. Questo è il ruolo della Gran Bretagna. Il ruolo della Gran Bretagna, con grande intelligenza, con grande capacità politiche, stimabili e ammirabili, è in realtà il nostro sabotatore di ogni giorno. Quindi noi abbiamo vissuto con Sherezad e il sabotatore. Questa è la storia dell'Europa. Ora, la situazione è andata avanti progressivamente, con alti e bassi, ma complessivamente io credo che si debba rendere omaggio al modo in cui l'Europa ha fatto crescere i suoi membri. La Spagna quando uscì dal franchismo, la Grecia quando uscì dal regime dei colonnelli. Insomma, l'Europa è stata la casa ideale per questi nuovi membri. E ce ne accorgemmo quando con la fine del regime comunista. Quando il comunismo crollò, quando il muro crollò, la Russia sovietica lasciò lì, nell'Europa centro-orientale, quanti erano i trovatelli, vale a dire i vecchi paesi satelliti diventati ormai dei trovatelli, degli orfani. Beh, quegli orfani li raccogliamo noi. E il periodo di attesa che va dal 1989, o se preferite 1991-92, crisi dell'Unione Sovietica, al momento nel 2004, in cui questi paesi entrano nell'Unione Europea, è il periodo che hanno trascorso, come dire, con la protezione, con l'assistenza, con i fondi di assistenza dell'Unione Europea, e che doveva in qualche modo consentire loro di ricostruire le loro società, di imparare anche le regole della democrazia parlamentare. Tutto questo fu fatto perché quei paesi avevano un'attesa, una speranza, sapevano che le loro difficoltà sarebbero state ripagate dall'ingresso in un'organizzazione che avrebbe maggiormente dato spazio alle loro energie. Insomma, abbiamo questo merito, anche se non sempre ci viene riconosciuto, di avere permesso a questi paesi di ricostruirsi perché sapevano che ricostruendosi sarebbero stati ripagati dalla possibilità di entrare nel nostro club, nel nostro circolo. Devo dire che la fine del comunismo e la crisi, soprattutto la caduta del muro, la riunificazione della Germania, ebbe anche un altro effetto molto importante. La riunificazione della Germania preoccupò molti uomini e donne politiche, dico donne perché la signora Thatcher non desiderava la riunificazione della Germania, Andreotti non desiderava la riunificazione della Germania, Maitran non desiderava la riunificazione della Germania. Quindi tutti guardavano, i maggiori paesi europei, guardavano questa Germania riunita con grande preoccupazione e temevano che avrebbe sconvolto tutti gli equilibri della comunità europea. La Germania ebbe il grande merito di accorgersi, di sapere, di comprendere che la propria riunificazione stava risvegliando le paure degli europei. Il cancelliere in quel momento era Helmut Kohl, uomo di grande capacità politica, molto europeo, molto europeo, e Kohl capì che l'unificazione avrebbe smesso di preoccupare o avrebbe preoccupato meno soltanto se la Germania avesse fatto un sacrificio, se avesse sacrificato qualcosa. Che cosa doveva sacrificare? Sul piano politico era ancora un paese sconfitto. Non dimenticate che fino al crollo dell'Unione Sovietica vi erano ancora forze di occupazione in Germania. Ma che cosa poteva sacrificare se non ciò che maggiormente aveva di prezioso? Era il Marco. Il Marco era il suo titolo di nobiltà, per così dire. Il Marco era diventato una moneta ammirata. E il sacrificio del Marco fu precisamente la creazione dell'Unione Monetaria. Vale a dire la moneta unica divenne il prezzo che la Germania dovette pagare per smetterla di preoccupare i paesi europei. Per la verità di moneta unica si era parlato a Bruxelles già da qualche anno, vi erano dei piani, vi erano dei progetti, quindi non fu difficile tirare i progetti fuori dal cassetto, rimettersi immediatamente al lavoro e firmare nel 1992 una unione economica monetaria che prevedeva per l'appunto la creazione dell'euro. Ora, per me è straordinario che i paesi europei in tutti questi decenni abbiano in qualche modo sempre compreso alla fine di discussioni, qualche volta anche molto difficili e complicate, che la solidarietà faceva premio su qualsiasi altra considerazione. Oggi le cose non sono precisamente così. La grande crisi americana del 2007, sbarcata in Europa nel 2008, ha avuto l'effetto di mettere in grandi difficoltà le economie e quando le economie in difficoltà si rimettono anche in discussione le politiche, le politiche che in qualche modo vengono considerate responsabili. E vi è oggi in Europa una rinascita del nazionalismo, una grossa evidente rinascita del sentimento nazionale o propriamente del nazionalismo. Per la verità i nazionalismi europei sono due. I nazionalismi in generale sempre lo sono, ma in questo momento è quale, è molto evidente. Anzitutto c'è ancora un nazionalismo tradizionale, vale a dire piuttosto aggressivo, che in qualche modo proietta la propria potenza o vuole proiettare la propria potenza nel mondo. E noi ne abbiamo visto alcuni casi recentemente. La Francia è ancora spesso vittima di questo nazionalismo aggressivo. La Gran Bretagna per certi aspetti lo è ancora. Non dimentichiamo che Francia e Gran Bretagna sono responsabili della guerra libica. Sono loro che l'hanno provocata, sono loro che l'hanno fatta. Hanno avuto sia alla fine l'aiuto degli Stati Uniti e anche per certi aspetti dell'Italia. Senza le basi in Italia non si sarebbe fatto nulla, naturalmente le basi erano necessarie. Ma quella guerra fu in realtà una guerra franco-britannica. Fu una guerra, come dire, di aggressione sulla linea del nazionalismo più tradizionale. Per me anche l'operazione nel Mali, francese, recente, è una manifestazione del nazionalismo più tradizionale. Ma se è un secondo nazionalismo, un nazionalismo populista, vittimista, composto da persone che si ritengono per l'appunto vittime di un avversario, di un nemico e che agitando il sentimento di questo vittimismo riescono a creare sacche di insoddisfazione e frustrazione nell'intera società nazionale. E quasi tutti ne facciamo esperienza. Ed è un nazionalismo che è, come dire, molto immaginoso. Naturalmente per essere vittima occorre che ci sia un nemico. E allora questo nemico occorre definirlo, qualche volta crearlo. Per esempio questo nazionalismo è convinto che la società è organizzata, manipolata segretamente da organizzazioni potenti in cui sono raccolti poteri oscuri che vede ancora la massoneria come un gigante che cerca in qualche modo di conquistarci, opprimerci. E poi la trilaterale, Bilderberg, l'Istituto Aspen, il Consiglio di relazioni internazionali americano. Tutte queste organizzazioni vengono percepite e descritte come l'espressione di un governo ombra che in qualche modo sta tramando contro il popolo buono. Il populismo ha questa idea che il popolo sia sempre buono e gli altri siano sempre cattivi. Non dice esattamente quale sia il popolo e dove sia il popolo e da chi sia composto. Ecco, insomma c'è però questo populismo che in qualche modo si manifesta nelle piazze di Atene, nelle piazze di Berlino. Non confondete con i fenomeni dell'indignazione civile. Occupy Wall Street, quelli sulle piazze, sul Sagrato di San Paolo a Londra, i giovani della Puerta del Sol a Madrid, ma anche i giovani turchi adesso di piazza Taksin. Quello non è il populismo, è una gioventù intelligente a cui credo che occorra dare retta, che occorra ascoltare. E spero che Erdogan ascolti i suoi, come sembrava fare l'altro giorno.